Gianborno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video Zucanovic è passato ufficialmente all'Atalanta, sì a periodo determinato, a tempo determinato però se lo siamo levato Allora, Zucanovic è stato uno degli acquisti fatti a gennaio L'acquisti fatti a gennaio sono stati più o meno, chi più chi meno, tutti abbastanza buoni Buono, buonissimo, perotti, molto buono Il Sharawi, normale, Zucanovic Diciamo che alcune presenze che ha fatto Zucanovic sono state buone, diciamo dai Diciamo buono, non voglio uccidere il povero Zucanovic C'è da dire però che ragazzi, Erkin, si chiama Erkin, se non sbaglio, Erkin Zucanovic Erkin Zucanovic, boh, vabbè, non è da Roma, parliamoci chiaro È un buon difensore provinciale, difatti è andato all'Atalanta Non capisco perché Sabatini abbia preso lui a gennaio È uno degli acquisti sbagliati di Sabatini di gennaio, quelli fatti un po' in fretta e in furia Non ho capito veramente perché siamo arrivati a prendere lui Perché comunque ragazzi, sì, avevamo bisogno di un difensore Lo cercava d'utile, quindi diciamo che una figura come Zucanovic Che era difensore, d'utile, poteva fare il centrale da una parte da un'altra Poteva fare l'esterno, il terzino di sinistra Quindi era una figura molto d'utile, poteva far comodo Ma Zucanovic non poteva far comodo perché sapevamo tutti Prima che non sarebbe stato sto gran giocatore Dai, parliamoci chiaro Cioè, chi è che si aspettava tanto da Zucanovic? Nessuno Non ha fatto malaccio, c'è da dirlo Ma non è pronto per iniziare una stagione con la Roma Si poteva tenere come sostituto di Ding E poi sarebbe stato veramente il sostituto di Mario Rui perché Ding è stato venduto Però comunque Spalletti ha deciso di puntare su Palmieri Molte hanno detto Eh, Palmieri, se si rompe Mario Rui tocca mettere Palmieri Ragazzi, Palmieri non è affatto male O comunque a me Palmieri non piace personalmente Però se a Spalletti piace, lo ha messo Nonostante la giovane età, nonostante fosse in prestito Per tutto il girone di ritorno Qualcosa vorrà dire Non è uno stupido Spalletti Addirittura per mettere Palmieri spesso l'ha messo esterno L'ha messo centrocampista A Spalletti e Palmieri piace Visto che qualcosa ci ha capito in sti sei mesi Spalletti, diamo fiducia a Emerson Palmieri Parte questo Zucanovic se ne va all'Atalanta Se ne va all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto Poi vedremo se questo riscatto sarà appunto esercitato Zucanovic è un buon difensore dall'Atalanta Non era da Roma In questo momento la Roma ha come difensori centrali Il pacchetto difensivo è composto da Allora Manolas, Rudiger Che comunque è rotto E Juan Jesus Zucanovic non potrà far parte di questo pacchetto Che stiamo cercando di rafforzare Arriverà Nacio? Non lo so se arriverà Spero arriverà Nacio Spero a questo punto Perché comunque Non è malaccio Poi ne parleremo in un video un po' Diciamo a parte per lui Forse probabilmente potrebbe arrivare Casares Che andrebbe appunto a Speriamo Io ho fatto il video nel 48 Perché ovviamente è fatta È fatta È fatta un cazzo Non è poi arrivato Però potrebbe ancora arrivare Ora vediamo Casares andrebbe a fare Diciamo un po' Il sostituto Dello Zucanovic Nell'ultimo anno Solamente più forte Perché è Molto buono Con i pieti È molto buono Con la testa È un difensore centrale Che può giocare anche Terzino sinistro Può dare continuità Quindi è molto buono Ancora meglio Di Zucanovic Perché Perché comunque Sa stare a Diciamo Sa giocare grandi partite Ha giocato grandi partite Perché ha giocato Nella Juventus In un club prestigioso Che ha fatto Ha disputato grandi match Quindi conosce anche Le grandi piazze È pronto per mettersi in gioco Quindi per me Qualora dovesse andare via Zucanovic Che comunque è già andato via E come sostituto Prendessimo Casares Per me sarebbe un colpo Fantastico Ora comunque è tutto da vedere Questa era la mia impressione Sulla cessione di Zucanovic Qualcuno mi ha detto Se ne stanno andando a tutti Sì Se ne stanno andando a tutti Insomma un po' Quelli che non ci servono Perché Iaic e Iacofalca Sono stati bocciati Zucanovic Probabilmente è stato bocciato L'unica appunto Sanabria Diciamo è stata fatta Una cessione importante E molto intelligente Lo sapete come la penso L'unica cessione Un po' Un po' dolorosa È stata Pjanic Di fatto Però Comunque un giocatore Ragazzi Purtroppo Oltre comunque Lo sfogo che avevo fatto In quel momento Va fatto partire Va lasciato partire Perché altrimenti L'economia va così Tu vendi per comprare Vendi per comprare E anche visto che comunque Non si può Con il fair play finanziario Spendere più di quanto In cassa E noi non abbiamo Stati di proprietà O merchandising A livello tipo Della Juventus Che sta in tutta Italia Se non in tutto il mondo Questo abbiamo Dobbiamo vendere per comprare Purtroppo è così Dai tempi del QQ Del QQ O come preferite dirlo La Juventus Ha venduto tipo Vidal L'anno scorso Nessuno ha rotto il cazzo L'agentus ha continuato a vincere Si potrà vincere Vincere Tra virgolette partite Non parlo di coppe Perché noi non siamo soliti Vincere le coppe Comunque si potrà vincere Partite Anche senza Pjanic Non è stato Era un buon giocatore Ma non sarà di certo Lui a Smettere di farci di fare Detto questo ragazzi Ora Sguardo al futuro Speriamo di Uscire presto Con un nuovo video Su un nuovo acquisto Perché voglio appunto Partire in tournée americana A parte Diciamo già partiti Però Fare quasi tutta la tournée americana Con il gruppo Già Quasi completo Poi ovviamente Ci sarà la Champions E post Champions Qualora Arrivasse un passaggio Del turno importante Arriverebbe Qualche nome Comunque fondamentale Per l'organico Quindi vediamo un po' Come va Aspettiamo ragazzi Detto questo Il mio video finisce qui Se il video ovviamente vi è piaciuto Lasciate un mi piace Se il video vi ha fatto casare Ovviamente Un dislike Io vi ringrazio per la visione Buon salala E ci vediamo Ad un prossimo video Ad un prossimo video